All'Italia è alla disperata ricerca di capitali e per trovarli potrebbe volare fino in Russia, Cina ed Emirati Arabi. Al termine del CDA è arrivata la conferma di un interesse da parte di investitori dei tre paesi. Tutto è rimandato comunque al prossimo 3 di ottobre, data in cui il Consiglio si riunirà di nuovo per discutere del rosso da 300 milioni di euro del primo semestre. Dal 2009, anno in cui l'ex compagnia di bandiera è stata rilevata da un consorzio di soggetti italiani per sottrarla all'acquisto da parte di Air France KLM, l'azienda ha continuato a macinare perdite. Alla riunione si parlerà anche dell'aumento di capitale da 200 milioni di euro che dovrebbe permettere proprio ad Air France di salire al 50% della compagnia. Timoroso che Roma venga trasformata in un hub regionale, però ci si è messo di traverso anche il governo italiano. Air France non è l'unica opzione, ha detto il ministro per lo sviluppo economico zanonato. Stiamo lavorando per coinvolgere le banche.